Ciao! Questo è un episodio un po' particolare del podcast che ha cambiato nome, non si chiama più Horror Roulette perché a causa di omonimia con un altro podcast ho dovuto ribattezzare il mio in Casino Carcosa, che ha anche senso visto che ormai non giochiamo più solo alla roulette, giochiamo anche a poker, alla slot machine, presto giocheremo anche ai dadi, quindi questa tecnicamente è il primo episodio di Casino Carcosa, è un episodio per la rubrica Roulette perché è stata appunto la sorte a decidere che dovevo vedere 5 bambole per la luna d'agosto e mi sono avvalsa della consulenza di Tony che è il mio fidanzato ed è un musicista dall'enorme cultura anche in ambito cinematografico. Abbiamo visto il film insieme, ne abbiamo parlato a ruota libera quindi è palese che non c'è un copione alla base del discorso che abbiamo fatto. Il film è un po' convoluto quindi spero di non aver fatto troppa confusione nel raccontartelo e avevamo entrambi la tosse quindi il montaggio a volte si interrompe in modo un po' brusco, spero che non ti dia fastidio, spero che questo episodio un po' più abbraccio ti piaccia comunque. Buon ascolto, sigla. Complimenti, ci vuole un bel coraggio per avarcare le soglie del Casino Carcosa, potrebbe interessarti un giro di roulette. Hai pensato dei pensieri? Sì. Reguardo a questo film? Sì. Vai, esponimoli. Anche Tarantino ha fatto Jackie Brown. A tutti capita uno scivolone, dici? Te pensa che Tarantino cita questo film in Kill Bill? Ma in realtà da fin fine Mario Bava di film come questo ne ha fatto una valanga. È difficile pensarci, non so quanto tu sia amante dell'horrore thriller italiano. Poco. Poco, io invece tanto. Bava, padre e figlio, Argento, Fulci, tutta questa gente qua. Io per anni ho visto molti film di questa gente qua. Anche... Aiutami, l'altro. L'altro regista, sono pochi, registi horror di culto italiani, sono Argento. Bava, padre e figlio. Fulci. Ce n'è un altro? Avati. Sì. Oh, oh, Giuda. È vero, sei. Scusami. Avati quando fa gli horror. Ne ha fatti. L'Arcano Incantatore. Avati. Sì, Avati. Quando fa gli horror. Perché non è che fa solo... Bella, che so dalle finestre che ridono. È bellissimo, sì, sì, sì. No, intendevo... Sì, Avati quando fa gli horror. Ok. No, intendevo un altro regista. Michele Soavi. Ah, suavi. Questa cricca di registi ha fatto un... In realtà Fulci è quello che ne ha fatti meno. È perché quelli... Che ha fatto sono... Quei pochi horror che ha fatto Fulci sono spettacolari. Io non guardo film di questo... Ah, ci credo. È una mia mancanza, in realtà. Sì, sì, non è male. È che finora quelli che ho visto non mi sono piaciuti, eccezione fatta per Sospiria E' profondo rosso. Chiaro. Beh, il signor diavolo non ti piace, no? Per carità, no. Bellissimo. No. Sì, invece... Ma vuoi mettere tutta quell'atmosfera rurale gestita male? Eh. Gestita male perché... La moglie di un politico che parla veneziano... È l'unica che parla dialettico. I cittadini parlano tutti benissimo. Non ha senso. Sì, ha poco senso. È una casa che ridono, che tutti parlano ferrarese. Eh, quello non lo ho visto solo all'inizio. Comunque, il problema è che questi registi ogni tanto gli scappavano di questi film. Mario Bava, in realtà, è noto per altri film, come La maschera del demonio, che è considerato l'horror capolavoro italiano. Ah, e io non l'ho visto. Bellissimo, meraviglioso. Da cui, tra l'altro, piccola nota da... Fun fact. Da intenditori. In quel film viene citata la famiglia Vaida, la casata Vaida, in cui si dice siano maledetti. Una band, slovena, se non ricordo male, Death Metal, si diede il nome Vaid, in onore del... Citando il film. Citando il film La maschera del demonio. Non solo. Mario Bava è noto anche per altre... La sua versione dell'Odissea, bellissimo. Shock. Anche quello è molto bello. Ercole, oddio, Ercole e la regina della luna. Qualcosa l'ho visto molto tempo fa. Nel cinema italiano ci sono decine di film dedicati a Ercole. Sì, ovvio. Lui ha fatto anche un film che potremmo quasi definire un prequel di 300. 299. No, la battaglia di Maratona. Ah, ok. Sono tutti film molto belli. Purtroppo tutti quanti loro cascavano in questi thriller poco ispirati. È vero che è poco ispirato? Sì, è proprio un perché deve lavorare. Sì, è un pomeriggio libero. Cosa facciamo, raga? È semplicemente... Ma esattamente come anche per Argento dal 90 in poi. È perché deve lavorare. Se no, non mangia. E quindi vengono fuori tutte queste robe. Argento, purtroppo, non è ispirato da molto tempo. Abbiamo visto di recente Occhiali Neri. Sì. In realtà... Che un marazzo di film. Occhiali Neri è un discorso a parte. Cioè, leggendo su internet, tutti a buttar fango su quel film e su Argento in generale. Argento non è da... Cioè, tu ti sciacqui la bocca quando parli male di Argento. Anzitutto perché Profondo Rosso... In Giappone la Sony ha costruito un impianto stereo. Per mandare Profondo Rosso in uno stadio. Quindi, silenzio. E in generale Sospiria è uno dei film con la maggiore influenza nell'ambito dell'ordine. Ma in realtà anche Le Cinque Giornate... Le Cinque Giornate, sì. È una bella commedia. E anche i tre film sugli animali. In realtà i film di adesso... Tolto Dracula perché Dracula 3D è proprio una cosa che poteva... Non esistere. Poteva non fare. In realtà sono tutti film che... Se tu li avessi visti negli anni Ottanta avresti detto... Eh, un buon film di Argento. Ma per carità anche Occhiali Neri se l'avesse fatto nel 78. Sì. E perché lui è rimasto all'epoca. Esatto. Non si è mai rinnovato. Quella volta che si è... Ha cercato di rinnovarsi... E ha fatto Dracula 3D. E è andata come è andata. È andata come è andata. E basta. A parte che potrebbe evitare di far recitare ancora sua figlia. Ma che ti dirò che in realtà l'argento era il male del minore. In quel film era l'unica. Era l'unica cosa decente. No, aspetta, no. L'unica cosa decente era il cane. Il cane è stato bravissimo. Sa, è tutto merito suo. Comunque, senza andare troppo fuori. Com'è che si chiamava questo? Le cinque... Cinque bambole per la luna d'agosto. Del 1970 Mario Bava alla regia, sceneggiatura, montaggio e tutte cose. La mia domanda è... Dove cazzo viene fuori sto titolo? Non ci sono bambole, ci sono più di cinque morti e palesemente non è agosto. Palesemente è freddo. Io non ho capito il titolo. C'è la tipa bionda, quella lì che sopravvive. C'è Edwige Fennec. Ci sono cinque donne sull'isola. Sono quelle. Ma in che senso? Cioè, ma allora... Niente. Visto che... Non sapeva che titolo dargli. Eh, ok. Cinque bambole nel senso che ci sono cinque femmine. Come la chiama? Il professore... Il professore con la formula che non la vuole dare. Allora vuoi o no? Il prof non la dà. Neanche il Vigio Fennec. Il prof non la vende. Eh, no. Allora, io ho un discorso in testa per questo film. Però mi pare di tirar... Di pre... Mi sembra di prendere questo film e dargli un valore, uno spessore che forse non ha. Provaci. Ossia che Bava non ha voluto fare un bel thriller. L'idea non era quella. L'idea era fare un film su un'ipotetica situazione su un'isola deserta in cui questi qua sono una massa di cretini e si fanno secchi uno dietro l'altro. Ebbene, cioè, fai il giro. Ebbene, questi sono una massa di idioti talmente tanto che fanno il giro e il film diventa interessante perché il film non è brutto, è perché loro sono una massa di idioti. E quindi, cioè, è proprio quello che deve interessare te lo spettatore è quanto è assurda la situazione. Ok. Però mi pare di dargli uno spessore che forse non ha. Anche a me pare di dargli uno spessore che forse non ha perché io lo interpreto con una chiave post-moderna. Solo che non ha senso dargliela, visto che ho fin dal 1970. No. Adesso raccontiamo ben bene la storia così perché possiamo valorare. Metropolis era post-moderna. Non può essere post-moderna, è nel 22. Quando comincia l'era moderna? No, no, allora, allora, no, no. Dio mi aiuti. Allora, l'età moderna è cominciata nel 1848 a livello storico. Però a livello culturale il post-modernismo è recente. Per essere post-moderno prima ci deve essere un moderno. Beh, che c'entra? La saga di Gilgamesh è un fantasy, ma c'era gente che la prendeva per un libro della verità. E cosa c'entra? Beh, cioè, precedente. È post-moderno prima che arrivi il post-modernismo. È talmente post-moderno che è pre-moderno. No, è pioniera di quel genere, che ne so io. No. Allora, riavvolgiamo il nastro. Il film si apre con Isabel, che è una ragazza che... Qual'era? La bionda. Ah, sì, quella che non parla. Sì, parla veramente molto poco, parla alla fine praticamente. Rappresenta che lei è una bambina quando ha palesemente 33 anni. Sì, perché le fanno anche patto patto sulla testa. Sì, sì, ma lei è una bambina, dice anche che sta aspettando la mamma e il papà e porta la collana fatta con i rigatoni. È una bambina, rappresenta che lei è una bambina, sta giocando tra le onde sulla spiaggia, mentre scorrono i titoli di testa. Lei dalla spiaggia si avvicina a questa casa, si dà ad intuire che ci troviamo su un'isola ed è in corso una festa in cui questi otto, queste quattro coppie, ballano, bevono e si divertono. A un certo punto uno di loro, George, prende per mano una delle signore, la moglie di un suo collega, tra virgolette, di un collega con cui ha un conflitto di interesse. Tutti hanno conflitti di interesse, sì, sono rivali industriali. Sì, sì, esatto. Prende la moglie di uno dei suoi rivali, la lega ad un tronco, arriva il cameriere Jean, distribuisce coltelli, pugnali di vario genere agli altri festeggianti e si avvia il sacrificio al dio Vague. Vague, perché probabilmente non hanno pagato i diritti. Per pan. Ai greci per pan. Questa è la scena che Tarantino cita, la scena in cui si spengono le luci. Che minchia. Che secondo me è una gran cazzata, cioè io ho letto questo fun fact, Tarantino cita le cinque bambole per la scena in cui si spengono le luci, ma in 800 film si spengono le luci. Sì. Non è una citazione, è una cosa che succede. Penso, c'è un film che è solo quello. Lights out, don't breathe. No, ma che è Vanishing on 7th Street. Oh, ok. Con Anakin Skywalker. O come si chiama quell'attore, insomma. Aiden Christensen. Sì, dove diventa tutto buio. Fino al mattino dopo. Come nella vita. Che nella vita diventa tutto buio finché non sorge il sole. Quando le luci si riaccendono, la tipa legata al tronco... Edwidge Fennec. Non so come si chiama il personaggio. Luna. No, l'hanno chiamata... Tuk. Tuk? Qualcosa del genere. L'hanno chiamata Biscotto. Eh, cosa vuoi. C'è anche uno della Compagnia dell'Anello che ha il cognome di un nome da biscotto. Non si scrive uguale. Cerca, aspetta. O lo cerchi o... Tieni il microfono. Come si chiama? Edwig? Edwidge Fennec? Edwidge Fennec. Francese, si pronuncia la francese. Francese, nata però al Cairo. Perché io l'ho sentito nominare in tutti i modi possibili. Edwidge, Edwidge. No, Edwidge Fennec. Marie. Ah. Magari Tuk per gli amici. Può darsi. Dunque, quando si riaccendono le luci, Marie ha un pugnale conficcato nel petto. Però, tan tan tan, colpo di scena, le spruzzano il seltz ed era sangue finto. Non ho capito bene, eh? Era uno scherzo del marito. Era una burla. Veniamo così introdotti a questa cricca, appunto composta da questi tre industriali e le loro mogli, e uno scienziato, che si chiama Fritz. Che tra l'altro è William Berger. William Berger. William Berger, a parte essere un curioso connubio tra Viggo Mortensen e Roger Hauer. Roger Hauer, somigliato altissimo a Roger Hauer. Lui interpretò Kit Carson nella trasposizione cinematografica di Tex, e il signore degli abissi. Adoro. Insieme a Giuliano Gemma. A Giuliano Gemma. Che interpretava Tex, appunto. Bellissimo. Ed era lui con i baffi e proprio Kit Carson. Ma andiamo avanti. Bellissimo questa curiosità. Grazie per averla detta. Prego. Fritz ha inventato una formula per una resina. Ah, che è di Mario Bava. Tex è il signore degli abissi. Ah, quindi avevano già lavorato insieme. Sì. Adoro. Come anche Diabolic. Vabbè. Mi diverte questa cosa. L'attore che ispirò le sorelle... Sì, non mi ricordo. Era Robert Taylor. Ricordami chi è Robert Taylor. Ha fatto un botto di western. Era uno di quelli alla John Wayne. Allora ho capito. Sì. E mi sono persa. Ah, Fritz ha inventato questa formula. Per una resina. Resina industriale. I tre industriali la vogliono. E stanno facendo questa festicciola sull'isola per essenzialmente fare affari con lui. Che non vuole. Non vuole a nessuna condizione, a nessuna cifra. Sì. Tanto che gli dicono ti diamo un milione, te ne diamo due, te ne diamo tre, te ne do io sei. Più mia moglie. È vero. Ti offro anche mia moglie. Nanami. Che è Edwicz Fennec. Lo dici con me. Come si fa a rifiutare Edwicz Fennec? Io non avrei mai potuto. Nessuno, nemmeno io. Appunto. Edwicz Fennec è la prima a scoprire un morto sull'isola. Perché lei va a fare le cose illecite con il cameriere Jacques, ma lo trova defunto. Sparato. No, accoltellato. Accoltellato. Ah, è vero, è l'altro che è sparato. Muoiono troppe persone in questo film, me ne confondo. Non riescono a comunicare con la terraferma perché i telefoni radio... Il telefono non funziona. Non funziona, no. E qualcuno ha mandato via lo yacht. Il motoscafo è scomparso. Quindi loro mettono Jacques morto nel freezer. Com'è che si può chiamare? Non è proprio il freezer. C'è la cella frigorifera. Lo appendono. Insieme alle pacche di vitello e cose varie. La cosa che io non ho capito è perché lo appendono. Il mio istinto... Cioè, se io dovessi mettere un cadavere in una cella a frigo, lo metterei per terra? Non mi ingegnerei a fare i sistemi di carrucole? Semplicemente perché se sdrai un morto, gli colla il sangue in terra. Se tu lo appendi, il sangue riempie tutto il corpo e è come una bottiglia. Resta nei piedi. Sì, non hai mai avuto a che fare con un morto. No, baby. È ora che ti insegno. È ora che impari. Imparo, Glauco. Sì, che prendo lo stipendio io. In fabbrica, sì. Tutti pensano. Lasciamo perdere. Comunque, quello... Ho presunto che fosse quello il motivo. Sì. Appoggio la tua teoria non avendone di migliori. Poi che succede? Ti giuro, è un film talmente... Niente, allora succede tutto in maniera molto casuale. Molto sfilacciata, sì. Non c'è un fatto conseguenza. Sono solo fatti. E' per questo che ti dicevo, secondo me, qual è il senso di questo film. Anche se non vorrei dargli troppo valore. Non ti fa vedere niente. Ti fa vedere tutto e niente. Ti fa vedere quando la gente muore, ma non tutta. Perché dopo quello, passa molto tempo prima che si trova un altro morto. Che se non ricordo male... È lo scienziato. È il professore. Lo trovano morto sulla spiaggia. Sparato. Sparato. Ma? C'è un ma? Non dire il colpo di scena adesso. No, 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 per carità. Ma il fatto è che è sparato in un determinato modo. Che diventerà importante nell'ultima scena. Ma sparato dove? Era alla spalla. Sulla luna. Oh no. Ah, cosa curiosa. Ah. Hai fatto caso che quando muore il professore si vede la tipa, la bambina? Sì. Andare in giro con un fucile? È perché è lei che gli spara. A un certo punto dicono che è stata un'altra persona a sparare al professore. No. Sì, sono stata un'altra. Beh, Jack dice di essere stato per fare la scena che è cattivone, ma in realtà è stata Isabel. Ah, infatti diciamolo. C'è una scena, un'altra scena sulla spiaggia in cui noi vediamo due delle mogli che chiacchierano. Mhm. Vediamo da una parte Isabel col fucile. Si dà ad intendere che lei spari al professore, anche se non capiamo assolutamente perché. E quando le mogli trovano il morto sulla spiaggia, corrono a chiedere aiuto e quando arrivano i mariti sulla spiaggia, il cadavere non c'è più. Cos'è successo? Dan dan dan. Questo film è tutta una serie di cose successo e come è successo e ci sono poche risposte. Che non ti dà, probabilmente perché avevo fretta di finirlo. Insomma, è un susseguirsi di morti apparentemente insensate. Muoiono tutti e tutti vengono appesi nella cella a frigo. Si, e tutti muoiono per... Boh, addirittura c'è uno che... Ah si, Nick... Nick, secondo me a un certo punto gli è scaduto... Gli è scaduto il contratto. O è dovuto andare via, perché danno per inteso che lui muore. Perché ad un certo punto lo trovano appeso nel freezer, uno dei tre industriali. No, ce l'hanno messo loro, ce lo appendono loro. Solo che noi dobbiamo andare a intendere che loro l'hanno trovato morto e poi l'hanno appeso lì. Ma secondo me a un certo punto gli hanno detto, guarda, fai, giriamo la scena nel freezer e poi vai pure. Devo andare a prendere i bambini a scuola, Mario. E si vede che doveva andare via, non lo so. Io che ne so. C'ho il treno. O giudo. Ma sicuro, ma qualcosa, perché veramente... Il fatto sta che, morto dopo morto, dopo morto, dopo morto, ci ritroviamo con solo tre personaggi. La moglie dello scienziato, Trudy. Jack. Jack e George. George, sì. I due industriali rivali. Trudy fa una cosa intelligente, punto di domanda. Prende il registratore e dice di essere rimasta sull'isola con due persone. Dice tre. Sì, perché prima c'era Nick, ma poi... Ma poi doveva andare a giudo. Doveva andare a giudo. Lei è sull'isola da sola con questi due individui. Uno di loro è sicuramente un manigoldo. Un assassino. E mentre lei registra questa dichiarazione, secondo me, molto pericolosa da fare davanti a una persona che ritiene un assassino, Jack dice, Vets, ho fatto un cocktail, beviamolo. E gli altri due dicono sì. Molto intelligente. Molto intelligente. I tre bevono il cocktail e i tre cadono addormentati. Vediamo i nastri del registratore andare avanti fino all'arrivo dei marinai che dovrebbero portarli in salvo. No, via, semplicemente. Non sapevano che loro erano da salvare. Ah, è vero, non sapevo che è vero. Era semplicemente che era finita la settimana. La vacanza. Arrivano i marinai, non trovano nessuno, trovano tutto in ordine. Questa è la cosa che io non ho capito. Trovano tutto in ordine. Vanno un po' in giro per la casa, la trovano vuota e se ne vanno. Il nastro continua ad andare avanti, finisce e noi vediamo di nuovo i tre, i due industriali e la moglie dello scienziato svenuti a terra ed è tutto in disordine. Questa è la cosa che io non ho capito. Perché era in ordine quando c'era? Davvero, è l'unica cosa che io ho capito. Dai, spiegamela, ti prego. Jack ha fatto tutta una gran scena. Sì, sì, io lo so che ha fatto scena. Quando loro erano drogati, erano, lui non lo era ovviamente. Perché lui è il colpevole. Prima, quando sapeva che stava per arrivare i tipi dello yacht, quindi cosa ha fatto? Ha messo tutto in ordine, ha spostato loro, li ha nascosti in qualche modo. Sì. Perché magari erano semplicemente in bagno. Può essere. Può essere. Così vuoi che non... Tre bagni, capirai. Poi, lui ributta tutto in disordine esattamente com'era. E quella è la cosa che io loro ho capito. Qual è lo scopo? Per far credere a loro che in realtà erano stati drogati tutti e tre. Ok. In maniera che quelli che... Lui sapeva che dovevano venire quelli dello yacht. Sì. Questi se ne sono andati. E lui ha avuto tutto il tempo di fare i porci comodi suoi. Ok. Ha fatto una scena mostruosa che minchia l'impegno. Complimenti. Pensavo stessi per dire minchia Johnny. No, minchia l'impegno, ragazzo. E basta, questo era. Ok. E quello era il mio punto di domanda. Io ho pensato che fosse un leggero salto temporale e poi indietro per farti vedere cosa era successo. In realtà no. Anch'io, anch'io pensavo. Oh dai, vedi una trovata registica curiosa. Da giallo. No. Invece no. No. Un'occasione mancata. Fatto sta che qui c'è il gran reveal. Si scopre che è stato Jack a uccidere tutti per essere l'ultimo industriale rimasto. Che in realtà lui era il segretario di George. Cioè non segretario, era un amministratore delegato. Beh, un CEO è un pezzo grosso comunque nell'industria. Sì, ma chi se ne frega, lavori comunque con George e i soldi li fai anche tu. Però senza George ne fai di più. Capito, ne farai 450 mila al giorno invece di 451 mila che ne fa George. Oh no. Stai calmo. Stai. Non essere avido. Comunque. Viene svelato un ulteriore altarino che io non ho capito nemmeno questo. Trudy, mentre Jack uccide George, va in camera, si cambia e si cotona i capelli. Sì. Così che quando Jack va da lei per prendere la formula, lei è figa e in modalità cattivo di James Bond sul letto che gira. Discutono, litigano per la formula, i soldi eccetera. Lei gli spara, lui le spara, si spara in tutti e rimangono riversi a terra morti. Arriva Isabel. Isabel è un po' una presenza come Ariel nella tempesta. Come Ariel nella tempesta? In agitazione. In agitazione. Lei è un po' questo spirito tipo Ariel della tempesta che arriva, sono invisibile e tutti pensano che lei sia veramente invisibile. Questa è una citazione a Mercadini. Fate conto che io sia invisibile, arriva Isabel, prende la formula, allunga la mano verso la formula e Jack si sveglia, l'afferra, lei lo prende a calci e lo rinchiude nel freezer e fugge. E io qui ci stavo, ok? Ero tipo, ok, lei è la final girl, lei è quella che sopravvive, è la bambina, la vergine, la santa, quella che non ha fatto niente di male, quindi merita il lieto figlio. Quella che ha semplicemente aspettato che si ammattassero tutti. Che tutti morissero! E come dice Clint Eastwood, per qualche dollaro in più, su voi galantuomini pendono grosse taglie, vi basta sapere aspettare. E' la stessa cosa. Esatto. Abbiamo però una scena finale, in cui Isabel, ben vestita, ben truccata, ben pettinata, adulta. Tutt'altro che bambina. Tutt'altro che bambina. Ma lei effettivamente ad un certo punto ruba una sciarpa di lustrini e piume e gioca a fare la grande. Sì. Quando Nick, uno dei tre boss, la vede, la sgrida, l'aggredisce. Che cosa fosse una bambina. Esatto. La rimprovera. E lei viene salvata da Fritz. Sì. In quest'ultima scena, lei tutta ben vestita, tutta elegante, va in prigione a trovare Fritz. Perché Fritz non era morto veramente. Lei gli aveva sparato un proiettile di Pentotal. Cosa è che ha detto? Allora. Insomma, lei gli aveva sparato un sonnifero, una cosa del genere. Sì. Esatto. Per inscenare la sua morte perché lei, dice, l'ha sempre amato tanto, si sono conosciuti lì sull'isola, non lo so, ma lei era innamorata di lui e voleva aiutarlo a nascondere il fatto che lui in realtà la formula l'avesse rubata uccidendo un suo collega. Esatto. E io quello che a un certo punto ho pensato è che il piano fosse suo, di Isabel e di Trudi. Di tutti e tre. Con Fritz, ok. Però non lo so. Non ne ho idea. A parte che a un certo punto, sì ok, gli ha sparato un sonnifero, d'accordo, però menziona, vabbè lo dico perché lo dico, esiste. Un determinato tipo di, come chiamarla, arma che si usa per stordire gli animali prima di ucciderli. Sì. Che è una cosa ad aria compressa, solo che gli stordisce con la botta. Ah, ok. Non con un sonnifero. Non con un medicinale. No, no. E' semplicemente perché gli dà una gran botta al cranio e... Gli stordisce. Gli stordisce completamente. Ma non ha dei sonniferi dentro. Eh, lei dice che... Se vuoi un giorno ti faccio vedere come sono fatte queste... Cioè, sono delle cose di ottone, proprio... Non hanno dentro del... Sono delle palle. Sono delle palle, proprio di ottone. Non hanno un sonnifero dentro. Ok. Comunque, non so perché l'hanno menzionato. Sì, era per spiegare la scena del ritrovamento di Louie in spiaggia. Per dare una spiegazione. Sparato, ma non morto. Il punto è che lei ha bisogno del suo amato Fritz, perché per prendere uno degli assegni preparati dagli industriali per accaparrarsi la formula, serve il codice del conto in banca. Fritz, fiducioso, glielo dà e lei se ne va dicendo pregherò per te, quando noi sappiamo che lui sta per andare alla forca, quindi cazzo preghi. Lei voleva prendersi sti milioni e se ne va via in Rolls Royce. The end. Sì, con tanto di... Autista. No, clochard. Chaffer. Clochard vuol dire senza tetto. Sì, lo so, lo so. Ah, vabbè, di fianco, nel cofano, dove vuole? Dove vuole? Nel baule. Quindi, il mio pensiero era, in un filone horror slasher, perché questo film gira e mista è uno slasher. Più o meno, sì. C'è sempre la figura della Final Girl, che è la figura innocente che sopravvive, no? Varie Gemini Curtis, Jennifer Love Hewitt. C'è questa figura ricorrente nello slasher e ho pensato, ah va, è divertente che lei sia la Final Girl, ma in realtà sia la più cattiva. Solo che lo slasher inizia dieci anni dopo. Inizia con Halloween. Allora, allora lo sai. Ah, lo sai. Non è postmoderno. Non è postmoderno. Te l'ho detto io. Perché arriva prima. È premoderno. È prepostmoderno. Quindi è moderno. È antepostmoderno. Ed è pre-slasher. Fenomeno. Mario Bava precursore. Lascia fare che sto film è più di quello che pensiamo. Lo è. Non lo sappiamo che cosa abbiamo visto. Noi non siamo abbastanza consci della grandezza di questo film e lo prendiamo in giro. Sì. Comunque, fammi dire che questa è un'analisi molto confusa. Sì, perché il film è confuso. Cioè, quindi siamo anche abbastanza coerenti. E ripeto, no, è un bruttissimo film. Sì, è brutto. Mi dispiace. È veramente un brutto film fatto da un regista che ti aspetti delle cose incredibili da lui. Però no, anche no. È un po' come vai al supermercato e fai quella bella spesa grossa con due carrelli, no? E quello è la maschera del demonio. Quello è la casa delle finestre che ridono. È profondo rosso. Ma quando io vado all'Eurospin... E prendi... Il caffè, l'olio, il zucchero. Ecco, questo è quel film. È quello che serve... Per sopravvivere quel giorno. Sì, per quell'annetto. Ecco, ho fatto... Ho fatto annata. A posto. A posto. A parte che comunque, vabbè, ancora mangio dalla maschera del demonio, però intanto vado avanti. Questo è questo film. Concordo. E basta. Voglio spezzare una lancia. A favore del... Di Elgistonek. Di lei sempre. Mi spezzo io per lei. Quello che volevo dire è che spezzo una lancia al reparto costumi, trucco e capelli. Ah, tutto brillante. Tutto molto anni sessanta. È vero, colori brillanti, lustrini, paillette, eyeliner, aguzzo. Io adoro, a me piace tantissimo. E il sangue. Bello rosso. Quel rosso technicolor. Sì, è vero. È il più bello di tutto. È proprio finto. Sì. È rosso come il rosso. È rosso come il colore aspirato. Per citare coso, quello di Styles, come che si chiama. È un rosso che sembra un rosso. Ah, it feels like a red. Sì, 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 sì. My favorite thing about this red. Questo è rosso perché è rosso. Mica è un rosso. Tu lo metti ed è rosso. Fatto sta che noi abbiamo visto questo film perché la roulette mi ha detto di guardare un film europeo degli anni settanta, non bellissimo, che però avesse una bella colonna sonora. Per questo ho chiamato Tony per parlare della colonna sonora perché lui è quello che si intende di musica. Cosa mi dice di questo lavoro di Pietro? Piero? Piero, mi sembra. Piero Umiliani. Allora, la colonna sonora, in realtà, io ho cercato di seguirla. Era molto ripetitiva, era sembra lo stesso. E tu non ti sei accorto di alcune cose, vero? Per carità, no. Dimmi tu, tu, tu. Non ti sei accorta che ci sono alcuni pezzi che... Io mi sono accorta che Sondheim l'ha copiato. Forse è sembrato a me, e sono troppo malizioso perché ormai ho quella testa lì, la mia testa si comporta da stronza e dice, ah, ah, c'è qualcosa qui che non torna. A me è sembrato di sentire Suspiria con Sopra per un pugno di dollari. Quindi mi prendi Simonetti e Morricone? A me penso che siamo proprio, magari con una nota leggermente diversa. Ma, Profondo Rosso è successivo, eh. Questo è del 70-70. Ma questo è una... Ah, ok, perfetto. Ai, ai, ai. Vabbè, Simonetti lascialo stare. Sì, sì, io lo... Lui che la padrona sonora l'ha fatta anche buttando i martelli dentro ai secchi pieni d'acqua, capito? Noi l'abbiamo visto dal vivo poche settimane fa. È un vecchietto adorabile che non sa usare i computer, però fai video al pubblico mentre lui suona. E dice, questo lo mando a Dario, questo lo mando a Dario. Amore, ciao Dario. Bellino. A parte questo, mi è sembrato di... È vero, vedi, se è di prima o... Sì. O Simonetti ha preso qualcosa da lì, però è precedente per un pugno di dollari? No. No. Per un pugno di dollari del 64, quindi una copiazzatura Morricone ci poteva sempre stare. Sai cos'era la tromba? Ah, la tromba. Sì. Proprio la tromba che è quella di Morricone. Io sono stata molto infastidita dalla tastiera che era troppo The Doors. È evidente che tu non hai mai guardato Buio Omega. No. Guarda Buio Omega, poi me lo racconti. Ha le tastiere fastidiose. Buio Omega, inizia il film... Tutta roba super prog. Sembrava un pezzo degli aree, ha fatto così. Sì, ma di un fastidio pazzesco. Buio Omega è estrema in questa cosa. Ho finito gli alieni. Buio Omega? No, per niente, sono dei cannibali. Ah, ok. Molto raffinati, però. Ah, mangiano solo carne bianca... No, no, è che sono benestanti. Ah, è una cosa alla salò. Sono madre e figlio becamorti. Becamorti. Che mangiano la gente. E quello che resta lo sciolgono con l'acido. Molto bellino Buio Omega. Peccato per le tastierone. Sì. Che tra l'altro... Sono di simboli. No, Buio Omega, se non ricordo male, è tipo di Giudamato. Giudamato... Ho letto un'intervista a Giudamato che me l'ha fatto amare alla follia. Era un coglione. Sì, sì, sì. Secondo me loro due erano gli emarginati. Giudamato e Giudante. Ok, Giudante non lo so, però... Oddio, a me Dante piace. Giudante è antropofago. Ha fatto Gremlins, anche Gremlins. Ha fatto anche qualche porno. Giudamato ne ha fatti un pacco. Giudamato ha tipo otto pseudonimi per fare porno. Sì. E lo cambia in base al paese. Sì, sì. Cioè, in Giappone mi chiamo Gio, non so cosa, in America mi chiamo Gio qualcos'altro. Sì, sì, oltre. Ma sei sempre tu. Dì, anche... anche Morricone. Comunque non l'ha dovuto sfruttare tanto. Giudamato, a seconda di come si sveglia la mattina. E dì, come la Rowling, no? Ne ha due la Rowling. So che ormai sanno tutti chi è, è buona. Che orrore, non mi far parlare della storia di Robert Galbraith perché è orrenna. In ogni caso, la parte bella della connessione di questo film è alla fine. È vero, l'ultima canzone. Sì, in fondo perché è il Balletto di Bronzo, che è una band prog italiana storica. E infatti era un po' a Lugli del Sole. Sì, 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 è dell'epoca. Era bello. Però il Balletto di Bronzo erano quelli... erano pre-metal. Pre-prog metal. Quando ancora non c'erano le strumentazioni per fare metal, per così dire. Beh, è ammirevole. Sì, sì, per carità. E niente, tutto qua. Non è granché la colonna sonora in realtà. Si sente poco perché sei più concentrata a seguire il film che inseguibile. Sì, un pochino sì, è un po' contorto. Io ho cercato di ascoltarla e mi è sembrata un'alternat... Come si può dire? Un'alternanza. Un'alternamento. Un'alternatività. Alternarsi tra il pezzo felicino e il pezzo feliciotto. Cioè, in generale a livello di atmosfera non mi hanno fatto thriller. No, per niente. Sembrava più una cosa ambientata a Carnaby Street nel mondo della moda. Come musica, cioè, se io chiudo gli occhi e ascolto quella musica, mi vedo le ragazzine con la minigonna che fanno... si provano i vestiti nei negozi. Di certo non vedo la gente che si spara. Ma in realtà, se tu ci pensi... tu probabilmente profondo lo so, a memoria non te lo ricordi. No, l'ho visto una volta. Quando Mark Daly trova, non mi ricordo chi, morto, cioè parte un... E' musica da festa. Ma è thriller de che? Questo è roba che io la sento. Ah, porca miseria. Bello, sto giro di basso. Chi è morto? Chi è morto? Capito? Sì. In realtà è perché profondo rosso non gli diamo... Tipo, profondo rosso è profondo rosso. Però... Fai silenzio. Però questo invece, già il film di sé, è un po' ridicolino. Ridicolo e quindi... Anche questo va a togliere dimensione al tutto, capito? Certo. E basta. Che voto gli dai? Da quanto a quanto? Da zero a dieci cadaveri appesi nella cella a frigo. E' perché c'è stato un periodo in cui ne guardavo un botto di questi. Ah ah. Quindi ne ho visti tanti e non è che... Cioè, vedendo questo non è che ti dico... Minchia che brutto, no? No, quello è vero, no. Boh, ne ho visti anche di peggio. Sai cosa? Della stessa cricca di registi e anche più brutti. Eh, io un po' per il periodo in cui è uscito la presenza della Fenec. Io mi aspettavo molti più corpi femminili nudi. E quello che ho sperato anch'io. E più sangue. Ma avete la Fenec? E non si vede la Fenec nuda. No. In intimo. Cerca di nascondere. Ma io lo spigoletto del capezzolo. L'ho visto. Mi dispiace. Però insomma non è intenzionale. Non è un inquadratore. No, anzi. Un seno ludo. No, anzi. Prova anche a nascondere. Ma non ci riesce benissimo. Anche di un'altra delle moglie si intravede il seno. Sì. Cioè io sono abituata proprio ai primi piani delle tette nei film degli anni settanta. Ma si è volgare. Mamma mia. Eh, ma anche in questi film lo sono. Invece questo no. Questo no. Per niente. No. C'è un po' di sensualità ma non è accentuata. Ma perché è la Fenec che è sensuale come donna. In realtà tutte loro. Trudy per esempio è una spinge che non trasmette niente. È algida. Però mamma mia. Come Brivan de Camp. Sì è vero, è molto bella. Sono tutte donne molto belle. Sì. Però il film non evidenzia questa cosa. Tende più a far vedere quanto sono infami i tre industriali. Industriali. Sì, parla molto 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 di soldi. È molto ripetitivo. C'è sempre il ditino lì. Sì. Sugli affari. Che se vuoi vederla come una critica al capitalismo. Che è tutto uno squalo, mangiasqualo. Sì. Ma non lo è alla fine. Perché comunque te lo dipinge come una vita molto intrigante. Quella delle persone che hanno tanti soldi. Isabel che alla fine se ne va sulla Rolls Royce. Sa di trionfo. Sì è vero. Non sa di... Oddio che schifo. Donnaccia maledetta. Cagna maledetta. Non volevo dire cagna. Però sì. Dobbiamo citare Boris. Citiamo Boris. Ma neanche da trionfo secondo me. Par più la bambina che è riuscita... Farla franca. Sì. Che tristetta. Che ha rotto il vetro col pallone. Però è riuscita a convincere che non è stata lei. Non l'hanno incastrata. Esatto. Che per la prima volta non sono stato io. Ha funzionato. Quando i bambini dicono non sono stato io. Sei stato tu. Metti anche la firma e hai confessato. Comunque... Sì è una critica molto scialba al capitalismo. Sì ma... Comunque riguarda la tua domanda di prima. Cinque cadaveri appesi nella cella. Ok dai. Quasi sufficiente. Non di più. Semplicemente perché... C'è di peggio. Ho voglia. Si ho visto di meglio. Ma ho visto anche di molto peggio. Della stessa cricca di registi e del stesso tipo di film. E basta. Concordo. Salutiamo. Ciao. Ciao. Andiamo ora nell'altra sala del casino carcobre. Cosa dove la roulette deciderà il mio destino per il prossimo film. Bene bene bene. Let's spin the wheel. Mi piace quando si incastra. Ah va. L'ultima volta è uscito l'undici. Oggi è uscito il dodici. Il dodici è rosso. Quindi filmone. Patapam. Pari. Nuovo. Un filmone che non ho visto. Girato sempre in Europa. Come quello che abbiamo visto stavolta. Tra gli anni venti e gli anni settanta. L'argomentone. Il tema. Che deve essere al centro di questo film. È la tortura. La so. La so. È la volta che guardo Cannibal Holocaust. Ah cazzo ma quello è sui cannibali. Forse non conta perché io effettivamente ho la categoria cannibali. Tra l'altro è dell'ottanta. Ottanta preciso. Quindi non rientrava comunque. Ci sarà un'altra occasione per guardare Cannibal Holocaust. Io devo ammettere una mia mancanza gigantesca. C'è un film del 76. Che è rinomato per essere di una violenza inaudita. E che a me manca. Io non ho mai visto. Lo ammetto. Salò. O le 120 giornate di Sodoma. Di Pierpaolo Pasolini. Non so se effettivamente conta come film horror. Ma non ho dubbi che sarà terrificante. Mi stanno divorando le zanzare. Quindi è meglio che io la finisca qui. E che ti saluti con il nostro solito augurio. Che la fortuna stia dalla tua parte. E che la roulette giri sempre a tuo favore.